Buongiorno, sono Laura Antichi, vi volevo mostrare come realizzare un podcast con Anchor sull'iPad Queste sono istruzioni minime, andate nello store e scaricate, cercate Anchor crea il tuo podcast nella casella di ricerca e poi scaricate Anchor, aprite l'applicazione e qui vi dà la possibilità di registrarvi o di accedere registrati con Apple oppure iscriverti con la tua email, naturalmente io faccio accedi perché sono già registrata dice di accedere a un account esistente oppure con Facebook eccetera eccetera sono registrata con Facebook, desidera utilizzare Facebook, continua e quindi mi dà in precedenza effettuato l'accesso ad Anchor con Facebook, desideri continuare, continua e così entro nell'applicazione l'applicazione vi chiederà poi di sentare le vostre informazioni, io sono entrata essendo già registrata e mi dà nell'interfaccia del crea, vado in profilo, questo è il mio profilo, vedete tutti a destra tutti gli episodi che ho pubblicato, poi le attività, vediamo le impostazioni dell'account qui nelle informazioni potete aggiornare la foto, la foto che corrisponde al nome del vostro podcast quindi mettete una foto significativa, il tuo nome e la tua mail ti dà un indirizzo, una custom URL dopo ho messo il mio sito web, riproducibre brani integrali attivo, elimina l'eliminazione dell'account se volessi o visita la pagina dell'assistenza di Anchor questo è per quanto riguarda l'impostazione dell'account che vi chiederà di mettere poi le impostazioni del podcast, il nome innanzitutto è importante qui come vi dicevo la foto quindi potrei aggiornare la copertina del podcast che voi ne metterete come vi dicevo prima una significativa rispetto all'argomento generale del vostro podcast mettete il nome del podcast, io ho messo l'antichi perché questo è il mio personale potrebbe essere radio dell'istituto, radio della classe, tal e tale, quello che volete e in questo podcast poi aggiungerete diversi episodi poi quindi è bene mettere una descrizione del podcast la categoria, scegliete tra le categorie che vi propone annullo, io ho scelto istruzione la lingua del podcast è anche questa sceglietela, io ho scelto italiano le opzioni del podcast sono il logo di Anchor su una copertina è disattivato, lo lasciamo disattivato il contenuto è esplicito soltanto se fosse un podcast per adulti poi abbiamo la disponibilità dei podcast il podcast è disponibile su Spotify, Anchor la distribuzione RSS del vostro podcast può essere diffusa in questi servizi per podcast poi avete un'analisi del podcast con quindi migliori episodi dettagli sul pubblico, le riproduzioni e la performance del pubblico andiamo ora a, che abbiamo settato le impostazioni andiamo in Crea che era la casella da cui mi partivo prima e ho la possibilità di registrare registra con gli amici, raccolta, musica, messaggi vocali, intermezzi, suoni siccome questo è un podcast proprio iniziale andremo subito a registrare un podcast quindi clicco sulla linguetta del registra sul tasto in basso rosso con il microfono del registra eccomi, sono qui per presentarvi Anchor su l'iPad il Anchor serve per poter produrre dei podcast ho fatto una brutta registrazione, vabbè, era per prova vado ora ad aggiungere, posso aggiungere anche una musica di sottofondo il mio podcast, intanto salvo, comunque salva beh, aggiungi musica, aggiungiamo la musica di sottofondo potrei cercarla anche tra le categorie che mi propone e metto una a qualsiasi metto una a qualsiasi vediamo questa Ru Severin ecco ok ho messo quindi una musica Ru Severin vado a salvare il podcast in questo modo verrà creato un nuovo episodio come si chiama metto prova uno uno aggiungi una registrazione all'episodio sì, sono pronto per pubblicare pubblichiamo sono pronto è il titolo dell'episodio quindi metto qui tutorial di prova qui la descrizione prova va beh prova poi la stagione mettiamo il 10 mettiamo il mese l'episodio mettiamo 4 pubblica potrei anche modificare la data di pubblicazione vado in pubblica per fare quindi velocemente vado ora in profilo e trovo il tutorial di prova come vedete da qui che posso andare ad ascoltare quindi tutorial di prova seleziono episodio vedete è stata aggiunta la musica vado in un'anteprima eccomi sono qui per presentarvi Anchor su l'iPad l'Anchor serve per poter produrre dei podcast andando nei tre puntini potrei come vedete modificare la musica di sottofondo rinominare il segmento modificare quindi tagliare questo segmento e modificare anche l'audio ritorno in profilo e vedete che mi da subito il tutorial di prova potrei ora visto che non l'ho fatto prima aggiornare i dettagli andato sui tre puntini in alto aggiornare i dettagli dell'episodio annullare la pubblicazione o eliminare l'episodio vado ad aggiornare i dettagli dell'episodio e vado a cambiare posso cambiare naturalmente le cose che ho scritto ma vado a modificare la copertina quindi scelgo di questo episodio e scelgo potrei scattare una foto scegli una foto esistente e ne scelgo una qualsiasi qualsiasi vabbè foto vediamo scegliamo questa quindi fatto voi ne sceglierete una significativa e vedete che l'episodio ha ora una sua copertina specifica salva le modifiche ora tutorial di prova vedete che mi ha dato questo ritorno sul profilo episodi e vedete che il tutorial di prova non ha più l'immagine del podcast generale ma ha un suo quindi ha una sua copertina ecco queste sono le informazioni minime che volevo darvi e che poi con calma proverete per registrare un podcast con l'iPad